Questa meravigliosa opera, questa parola di Dio, è piena della storia dell'uomo. È piena di tantissime esperienze, dove Dio ha sempre l'iniziativa, propone sempre un'alleanza verso il suo popolo eletto, ma dove il popolo eletto spesso pecca di infedeltà, cade. Ma Dio manda profeti e manda sempre un rinnovo della sua alleanza. Dio non ci abbandona mai e anche se noi cadiamo, siamo infedeli, Dio mantiene la sua promessa.